Io ho già messo su il mio lavoro, come vedete, per questione di spazio, di tempo. Dunque, qui ho fatto tutti i fiorellini a quattro fili, ho fatto due cordoncini per pesare la fiore. Adesso faccio le colonnine qui, adesso faccio sette nodi a catena. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. In questi quattro fili faccio cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. In questi ne faccio tre. Uno, due e tre. Poi, altri tre. Uno, due e tre. Faccio cinque. Uno, due, tre, quattro e cinque. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Adesso leggo i due fili centrali, delle colonnine. Solo due fili per me su. Ecco. E faccio solito il modo cordoncino. Sento come che vengo lì e vado da destra verso sinistra. Ecco. Ho appunto perché stia fermo. Un attacca. Prendo su sei fili da una parte e sei dall'altro. Ecco, così. E mi rimangono fuori sei. Di qua e sei di là. Adesso i primi quattro, due da una parte e due dall'altra, faccio tre massetti. I primi quattro del centro li metto in mezzo e i quattro di qua e i lati, i quattro di là, faccio il nodo piatto. Come ho fatto qui. Così. E li chiedi bene tutti insieme. Ecco. E poi lo punto. Poi divido il massetto del mezzo, del centro, che ne prendo due e quattro di mano in questo massetto e quattro li prendo su di qua. Che in tutto ho dieci fili in mano. E poi adesso faccio quattro di questi. Quattro di qua e due del mezzo del centro. E poi faccio il punto, il nodo piatto. Ecco, così. E poi lo tiro un po' in fuori. No, ecco. Ecco. Poi stengo bene e punto. Così. Adesso faccio altrettanto di qua. Lascio ai lati due fili. Quattro sono questi, quattro al centro e due. Così. Faccio in modo piano. E poi lo tiro bene e poi lo tiro bene ai lati. Ecco. E lo punto perché stia fermo. Adesso prendo su. I due del centro, che diventano due di qua e due di là, che diventano quattro. Quattro di una parte, quattro dall'altra. E faccio i nodi. Come la parte di sopra. Così. E poi divido due, i due vanno di qua. E qua ne rimango sei, e quattro, dieci, dodici. E adesso lavoro i due di ford, dai lati, che faccio il cordoncino. E punto perché stia fermo. E poi vengo giù con il cordoncino. E li prendo su così. E poi vengo giù con il cordoncino. E poi vengo giù con il cordoncino. Faccio un altro giro. Dico il cordoncino. Ecco. Adesso incomincio sempre i soliti, non vi ho fatto da un'altra parte. Per farvi vedere bene. I quattro in mezzo e i quattro in lati. E poi faccio in modo piatto. Ecco. Poi prendo su qua i quattro fili. E rimane due in mezzo. E faccio lo stesso modo. Tirandolo ai lati. Così rimane due buchini in mezzo. Aspetta un attimo che mi sia allentato. Per fermare? Per fermare? Sì. E in due sui lasciano fuori i due fili in lati. Quattro, quattro e due. Esci due. E poi vedo un bassettino. E poi vedo un bassettino. Sotto, due cento e due di quattro in lati. E adesso faccio lo stesso cordoncino. Quattro fili. E poi faccio i cordoncini. E faccio cinque. E faccio... C'è sbagliato? Faccio il punto a catena. Uno, due, tre, quattro e cinque. 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 Ecco, adesso faccio lo stesso modo piatto al centro come l'hanno fatto negli altri due. Sempre lo stesso modo. faccio fuori due fili e divido al centro due di quattro. Ecco, e quattro nel mezzo, quattro da un lato e due dall'altro. Ecco, faccio fuori due di quattro. Pino di due di un mezzo. Ecco, il centro è qui. Tiro... E adesso... da fuori che si apra bene e che faccia un pochino in mezzo ecco, così poi punto e faccio l'altro nodo ecco, due, quattro al centro e quattro ai lati ecco, è pronto e divido il massetto di sotto ecco, lì di qua adesso incomincio a fare lo stesso giro da cordoncino il primo filo è sempre I riportano tutti, senti, tutti i lavati che si lavora non stancherò mai di Dio ecco grazie a tutti Grazie a tutti